Grazie 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 Ecco già avvicinarsi la norma di 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 In questa gara stanno facendo i complimenti per chi deve salire sul podio. Il secondo è Giovanni Cassiba, vince dopo aver saltato il conto con la Gambarie, Luca Caruso! Allora, un consiglio, aspettate un attimo. Luca, vieni qua, mettiti al centro. Luca qua. Giovanni Cassiba, secondo, terzo classificato, Salvatore Castellano. Giovanni, vieni qua, mettiti sulla sinistra di Luca. Se vi spostate tutti quanti un po' indietro, qualcuno si può mettere accosciato, il fotografo lavora meglio. Per voi. Mettete qualcuno, mettete i giovani, i giovani. Vai, 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 vai. Alessi, dai, mettiti giù, dai. Perfetto. Questo è l'assoluto della 43esima, Santo Stefano Gambarie. Un applauso ai partecipanti che stanno. Luca, la prima bottiglia l'apri tu. Vai. Fermi. Mi fai una foto insieme a loro prima che aprono? Vai. Sì. 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 Sì.